Musica Dolore e tanta rabbia per la morte del settantenne, travolto e ucciso sulla statale a metà origlia. Dopo l'appello dei residenti, il sindaco seri annuncia autovelox, un progetto per la viabilità alternativa e un tavolo in prefettura, ma la competenza è di Hans. Ruba in un ristorante viene arrestato, ma in attesa del processo metta a segno altri colpi, giovane egiziano finito in manette per la seconda volta. A Sassonia di Fano è tornato il motopontone per terminare le scogliere, l'assessore Fanesi assicura nessun disagio alla bagnazione, entro ottobre partiranno i lavori per quelle di metà origlia. 1.800.000 euro per gli sconti sulla tassa su rifiuti, il comune di Fano presenta le novità per privati imprenditori. Serata conclusiva per passaggi Festival della Saggistica, tra poco in collegamento da Piazza 20 Settembre, il direttore Giovanni Belfiori. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Benedetto a Metaurilia di Fano, i funerali di Franco Minestrini, il settantenne investito da un furgone ieri lungo la statale Adriatica. Dopo l'ennesimo appello dei residenti che hanno chiesto al comune di intervenire per una viabilità più sicura, oggi è arrivata la risposta del sindaco Massimo Seri. Non c'è una famiglia che non piange un caro morto lungo questa strada. È uno dei tanti commenti dei residenti di Metaurilia che sia sui social sia su Fano TV hanno lanciato l'ennesimo appello al comune di Fano per la messa in sicurezza della statale Adriatica e per un progetto di viabilità alternativa. La tragica morte del settantenne Franco Minestrini, travolto da un furgone mentre gettava gli sfalci in quest'isola ecologica, ha provocato dolore, rabbia e preoccupazione degli abitanti della zona che da anni, mediante tele russi e bandiere, portano avanti una protesta permanente. In questi giorni, fa sapere la portavoce Sonia Campanelli, aggiungeranno un nastro nero in segno di lutto. Sul tema è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle che ha protocollato una mozione urgente per chiedere, fra le altre cose, un nuovo collegamento dal casello autostradale di Marotta all'imbocco delle opere compensative a Tombaccia, adeguando la strada di mezzo o valutando altri tracciati. Dopo le testimonianze e le interviste trasmesse ieri nel telegiornale Occhio alla Notizia, questa mattina è arrivata la risposta del sindaco Massimo Seri. Il primo pensiero è proprio quello di unirmi al loro dolore, alla vicinanza, perché quando si perde un caro, poi in una maniera così tragica, è veramente difficile. Quindi questo è il primo pensiero, una comunità deve essere unita e vicina nel dolore quando accadono queste cose. Quella è una zona non nuova, perché non ci nascondiamo dietro un dito, è una strada che ha avuto sempre problematiche e dà una sua complessità. Allora, per quello che mi riguarda, non è che ci sono soluzioni immediate e uno la bacchetta magica. Noi abbiamo già attivato un progetto di fattibilità sulla strada alternativa, abbiamo già chiuso l'accordo insieme al Comune di Mondolfo e San Costanzo e la provincia, per capire quelle che possono essere le soluzioni alternative. Ma le stesse soluzioni alternative, prosegue il sindaco, non risolvono il problema. In quella strada, detto, va moderata la velocità. Noi abbiamo due strumenti. Uno strumento è quello di mettere tipo autovelox e questo l'abbiamo già attivato, siamo in attesa dell'autorizzazione da parte della prefettura. L'altro elemento sono gli interventi strutturali che tendono a restringere la careggiata, però anche su questo, dobbiamo essere onesti, la strada non è dell'amministrazione comunale, è di competenza ANAS e quindi su questo mi prendo l'impegno di attivare magari anche un tavolo in prefettura per poter intervenire, perché altrimenti noi non possiamo intervenire in quel tratto, perché la soluzione vera è quella di mettere le rotatorie, il restringimento della careggiata per rallentare. L'altro elemento è quello dell'isola ecologica. Adesso, fra l'altro, sto andando ad un incontro con ASET per una riunione e lo farò presente per capire quale può essere una situazione alternativa o perlomeno più arretrata. La Polizia di Stato ha arrestato un egiziano responsabile di diversi furti ai danni di esercizi commerciali. In particolare, gli investigatori della squadra mobile, dopo averlo rintracciato a Fano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dello straniero in Italia da diversi anni, ma attualmente senza una fissa dimora. Il giovane era stato già arrestato il 14 maggio scorso per un tentato furto aggravato, perché grazie alla segnalazione di un cittadino era stato sorpreso all'interno di un ristorante del centro città. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto e in attesa del processo, all'egiziano era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Pesaro. Poi però ha messo a segno altri colpi. Episodi accertati con le indagini della Polizia Scientifica, che ha raccolto e analizzato le impronte digitali. Quindi, considerato il pericolo che il giovane possa commettere di nuovo reati simili, è vista la particolare scaltrezza dimostrata e finito in carcere. Adesso la sanità. Anche oggi in Regione si registra un decesso legato al coronavirus. Si tratta di una donna di 77 anni, residente a Osimo. Invece, tra le nuove diagnosi, i positivi sono 13, mentre negli ospedali delle Marche ci sono tre ricoveri in meno rispetto a ieri, ma tutti nei reparti non intensivi. Cambiamo argomento. Oggi in zona Sassonia sono ripartiti i lavori per completare le scogliere nel tratto a sud del porto di Fano. Entro ottobre, invece, la ditta comincerà. Quella è prevista a Metaurilia. Dopo un po' di ritardo con la ditta, ripartono i lavori per il rifacimento dell'ultima scogliere rimasta da terminare davanti a Bagni Carlo, quindi a Sassonia. Completiamo finalmente il lavoro che avevamo iniziato tempo fa e che finalmente giunge al termine. Dunque, oggi sono ripresi i lavori per completare queste importanti attività. Quanto tempo dureranno e se ci saranno dei disagi per la bagnazione? Prevediamo alcuni giorni di lavoro, però nello stesso tempo prevediamo che non ci saranno disagi per la bagnazione, nel senso che abbiamo messo in campo tutte le cautele per far sì che questo lavoro possa avvenire senza procurare disagio a nessuno. E c'è un'altra buona notizia che riguarda Metaurilia. Sì, è un'ottima notizia perché dopo la gara che è stata fatta nell'inverno scorso è stato aggiudicato finalmente l'appalto, un appalto che ricordo essere di 4 milioni di euro con soldi che arrivano da RFI, dalla Regione Marche, per fare le scogliere a Metaurilia, quindi a sud della foce del fiume Metauro. Sono stati affidati i lavori alla ditta Slimar, la stessa fra l'altro che sta completando in questi giorni i lavori qui a Sassogna, quindi siamo contenti perché ci sono tutte le possibilità perché a settembre-ottobre possano partire i lavori anche di Metaurilia. Siamo veramente felici, siamo anche consapevoli che è l'inizio di un percorso che ci porterà a difendere tutta la zona balneare di Metaurilia, dal sud del Metauro fino a Torrette. E continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio di Bosco divampato ieri nel territorio di Genga, nel Lanconetano. Cinque squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di 11 automezzi hanno lavorato per tutta la notte, anche oggi hanno fronteggiato le fiamme con l'aiuto dell'elicottero della Regione e con la collaborazione di due Canadair arrivati intorno a mezzogiorno dall'aeroporto di Ciampino. Al momento non risultano danni a persone, l'incendio, hanno spiegato i pompieri, se non contenuto potrebbe propagarsi verso l'abitato di Cerquetto e metterebbe a rischio gli impianti di telecomunicazioni sulla sommità della montagna. Molto difficili le operazioni di spegnimento da terra a causa della forte pendenza del suolo. E ci sono buone notizie in arrivo per la tassa sui rifiuti. Il comune di Fanno ha annunciato circa 1 milione e 800 mila euro per aiutare famiglie e imprese. In questo periodo di pandemia i riflessi sono stati pesanti per tante categorie, da quelle familiari a quelle economiche. In questi due anni abbiamo cercato in più occasioni di fare degli sforzi importanti anche con risorse dell'amministrazione comunale per andare incontro a queste difficoltà. Oggi ne facciamo un'altra importantissima, mettiamo 1 milione e 8 a disposizione per la riduzione della Tari. Aiuti concreti in arrivo per privati e imprenditori. Il sindaco Serie e l'assessore ai tributi Sara Cucchiarini hanno annunciato risorse ingenti che permetteranno di alleggerire le bollette della tassa sui rifiuti per l'anno in corso. Il comune utilizzerà tre fondi e diverse modalità di erogazione per diminuire la pressione fiscale. Il primo fondo è di circa 410 mila euro che verranno destinati indistintamente alle bollette di tutti i cittadini grazie al recupero dell'evasione degli anni precedenti. Il secondo invece di oltre 850 mila euro deriva dal decreto sostegnibista dello Stato ed è dedicato alle attività produttive che a causa della pandemia hanno subito più giorni di chiusura. In questo caso si tratta di un'agevolazione che i titolari e i gestori si ritroveranno direttamente in bolletta e sono previste quattro fasce di riduzione in base alle categorie. L'esenzione sarà totale per cinema e teatri, impianti sportivi e parchi giochi, agenzie di viaggi e discoteche. L'ultima operazione riguarda le risorse del bilancio comunale per un importo di quasi 500 mila euro che andranno ad aiutare le famiglie in difficoltà. La riduzione sarà del 100% se l'ESEE non supera gli 8.265 euro e del 60% si è compreso tra gli 8.266 euro e i 13.000 euro. In questo caso sarà necessario fare un'istanza, quindi fare una richiesta per l'esenzione e questa manovra è fatta in collaborazione con i sindacati che si mettono a disposizione per andare ad elaborare un'ISE, anche un'ISE corrente, quello che comunque fotografa la situazione degli ultimi sei mesi, in tempi brevi e in tempi utili per poter permettere a questi soggetti di partecipare a questo avviso pubblico di riduzione delle bollette e vedersi riconoscere quello che è un proprio diritto, un sostegno di diritto. Poi daremo comunicazione anche attraverso Fano TV appena uscirà l'avviso pubblico per poter partecipare a questo importante sgravio sulle bollette. Ancora avvistamenti dei lupi vicino ai centri abitati. Un nostro telespettatore ci ha inviato questo breve video registrato dalle fototrappole posizionate lungo la strada comunale del Giardino. Siamo a 500 metri circa da via Flaminia Rosciano, all'altezza del distributore di carburante in fase di ultimazione. Sembra una femmina gravida, ci ha scritto il reporter di strada. Ho inviato la segnalazione anche alla forestale. Sono troppi vicini alle abitazioni e i bambini che fino ad ora giocavano tranquilli intorno a casa. È necessario che qualcuno intervenga. Concluso e visto l'attacco al cagnolino avvenuto poche settimane fa a Monbaroccio, siamo veramente preoccupati. Indovina chi viene a suonare. Si chiamano così i video didattici realizzati dai servizi educativi in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e l'orchestra sinfonica Rossini per avvicinare i bambini alla musica. Il servizio di Letizia Marchionni. Ma papà, che cosa stai facendo? Come che sto facendo? Mi sto preparando per un concerto. Ma lo sai che i cognati sono tutti sospesi? Certo che sono sospesi per ora, ma prima o poi ricominceranno. Una serie di video didattici per avvicinare i bambini alla musica. Si chiamano Indovina chi viene a suonare. I primi tre mini video presentati e realizzati dai servizi educativi assieme alla Fondazione Teatro della Fortuna e dall'orchestra sinfonica Rossini. Un'iniziativa di Stefania Carbone e Giorgio Caselli che grazie al contributo dell'orchestra sinfonica ha preso vita con la realizzazione di videoclip didattici per permettere ai bambini di continuare a fare musica anche in pieno lockdown. Avvicinandoli non solo al genere classico ma anche alla musica rock e pop. Si tratta di una serie di tre video e ce ne saranno altri, ha spiegato Caselli nati sotto forma di quiz musicale e pensati in piena pandemia. Chiaramente la cosa eccezionale è che poi con l'orchestra sinfonica Rossini e i professori abbiamo messo insieme sia la parte didattica e semplice che può servire sia anche per capirci alla scuola dell'infanzia con i professori che hanno spiegato in maniera eccezionale gli strumenti e poi abbiamo messo l'uso dello strumento in orchestra quindi quello che succede quando poi lo strumento viene portato in orchestra la fantastica orchestra sinfonica. Quindi il primo girato tutto con i cellulari e assemblato con le farete telefonate infatti poi vedete che è molto diverso. Poi il secondo è che è stata una piccola deviazione indovina chi viene a suonare ma siamo in teatro l'idea di far vedere cosa succede dietro le quinte quindi i bambini della scuola Tombari della classe quinta della Tombari sono venuti seguiti da me senza disturbare le prove in palcoscenico durante le prove di Pulcinella un'opera fantastica. Il terzo, professore dell'orchestra Norris e il quartetto frutto dell'orchestra hanno spiegato in maniera semplice e chiara quelli che sono gli archi. L'iniziativa che parte dal problema pandemico dello stare a casa ma poi approda nella produzione di video che serviranno alle scuole nei prossimi mesi ha cercato di dare una risposta anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini in un contesto difficile e complesso come quello segnato dal Covid. Fondamentale per il progetto è stata la collaborazione con l'orchestra sinfonica Rossini il presidente Saul Salucci infatti ha messo a disposizione dell'iniziativa i maestri d'orchestra. L'orchestra si è messa al servizio del territorio della città di Fano e dei servizi educativi per un progetto di formazione a cui noi teniamo molto ho messo a disposizione i nostri professori che abbiamo la fortuna di avere un'orchestra con un nucleo nel territorio e questa è una grande fortuna perché avere nel territorio professori di questo livello ci permette di giocare di giocare bene di divertirci e di fare cose molto importanti. Invece il Comune di Pesaro ha lanciato 300 eventi per la stagione estiva lo ha fatto a bordo del nuovo trenino turistico che quest'anno accompagnerà cittadini e visitatori ad esplorare la città. A bordo nel corso della presentazione c'era anche Angelica Panzieri. Siamo a bordo del trenino Ui Pesaro Express è da qui che oggi il Comune ha lanciato le iniziative per questa stagione 2021. Candele sotto le stelle il 10 agosto Rossini Opera Festival dal 9 al 22 agosto San Pietrino Samme Street ogni martedì in piazzetta Toschimusca e poi il Burattini Opera Festival fino alla mezzanotte bianca dei bambini in programma al 4 luglio è un calendario ricco di appuntamenti ben 300 con 500 serate in programma quello presentato dal Comune di Pesaro per la stagione estiva 2021. Il vice sindaco Daniele Vimini accompagnato dall'assessore Mila Dell'Adora li ha passati in rassegna dal nuovo trenino turistico Ui Pesaro Express vera novità dell'estate pesarese che accompagnerà cittadini e turisti ad esplorare la città. Da Viale della Repubblica passando per Viale Trieste Baia Flaminia Piazza del Popolo e Rocca Costanza fino a Viale Trento sarà questo il percorso del trenino che può contenere fino a 36 persone disponibili a Pesaro fino al 5 settembre dalle 17 alle 20 sarà per gruppi su prenotazione dalle 20 e 30 alla mezzanotte invece partirà per chi lo vorrà ogni 30 minuti da Viale della Repubblica costerà 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini iniziativa quella del trenino voluta fortemente dall'amministrazione comunale e dall'APA associazione pesarese degli albergatori tra gli eventi nella nuova brochure di Pesaro verso l'estate e oltre viene riconfermata anche la fiera di San Nicola uno degli appuntamenti più amati dai pesaresi con il lungomare che si colorerà di bancarelle profumi e sapori il trenino non solo a trazione turistica ma anche diciamo in un trasporto alternativo integrato già dalle navette che abbiamo presentato proprio qui pochi giorni fa e anche la possibilità di muoversi con il trenino per arrivare tra i due porti e in Baia Flaminia quindi diciamo un'alternativa all'auto per singoli o comitivi che organizzano magari cene in queste zone e crediamo che tra l'altro diciamo sia un'opportunità turistica in più perché molti turisti magari per la distanza non arrivano a scoprire la bellezza di Baia Flaminia e quando invece c'è tanto da vedere possa tornare a far respirare quel clima anche di festa responsabile ma che insomma ha fatto innamorare tanti turisti di Pesaro e anche ha fatto tornare regolarmente a visitare la nostra città e adesso la pagina dedicata a passaggi festival ieri sera il pincio di Fano era gremito di gente per l'appuntamento delle ore 21 con Cesare Cremonini il cantautore bolognese ha presentato il suo libro intitolato Let Them Talk edito da Mondadori prima di salire sul palco è stato mostrato un video di alcuni momenti più belli della sua carriera Cremonini ha accolto con un caloroso applauso ha svelato di aver vissuto gli ultimi 20 anni pensando alla prospettiva poi a gennaio dopo un lungo periodo di pandemia e riflessione ha accettato una sfida quella di scrivere e dirigere il film dedicato ad alcuni momenti particolari della vita di Lucio Dalla il 41enne ha raccontato parte della sua infanzia dei legami con il pubblico e di quello con il papà Giovanni venuto a mancare nel 2019 all'età di 94 anni mio padre ha detto l'artista mi ha trasmesso il senso del dovere era il medico della gente siamo cresciuti in una casa di campagna e lui era stato il primo dottore della zona era più famoso di me arrivata la rivoluzione di internet mio padre non era pronto a leggere il suo nome su internet quindi cercava Cremonini per cercare me e veniva fuori anche lui perché comunque internet a me sento tutte le professioni allora ricordo di lui che mi chiama e mi dice ma io sono importante come te solo perché ci era trovato su internet dopo la presentazione del libro Cremonini ha ricevuto il premio fuori passaggi la nostra card omaggio della lettura inserto del cuore consegna il premio Davide Catarossi grazie premio fuori passaggi prima edizione a Cesare Cremonini grazie è così bella la dedica che questa sera me la dodo dai grazie di cuore e questa invece è l'ultima serata dedicata alla nona edizione del festival allora ci colleghiamo con piazza 20 settembre dove c'è per noi Davide Cecchini buonasera Davide a te grazie per la linea Simona sì ci troviamo qua in piazza 20 settembre venerdì scorso eravamo qua con il direttore dei passaggi Belfiori siamo ancora di nuovo qua è appena terminato Piero Pelù al pincio ecco siamo arrivati alla conclusione Belfiori è un momento di fare una sorta di bilancio anche di questa edizione 2021 che edizione è stata? ma è un'edizione positiva ci pare nonostante le restrizioni anti covid che naturalmente abbiamo cercato di osservare abbiamo anche invitato il pubblico a osservare devo dire positiva ancora non abbiamo un quadro delineato di tutti i numeri però insomma qualche dato gli otto giorni di festival abbiamo avuto 95 120 sono stati 76 titoli librari presentati 88 gli autori e le autrici arrivati a Fano oltre 150 gli ospiti tra giornalisti personaggi della cultura e dello spettacolo pensate oltre 11.000 11.100 i biglietti in pre-vendita gratuita staccati per la piazza e il pincio a cui poi si aggiungono tutte le altre sedi pubblico dove poteva andare liberamente senza pre-vendita ma ovviamente rispettando il tracciamento quindi la chiesa di San Francesco la mediateca Montanari lucellin belverde il bonbon Lido i bagni torrette quindi assolutamente una edizione positiva grazie anche agli oltre 90 volontari che tutti i giorni sono stati qui e hanno impiegato il loro tempo e le loro competenze per far funzionare la macchina di passaggi festival sono arrivati anche dei dati assolutamente positivi dall'associazione albergatori me li ha comunicati poco fa Luciano Cicchini il presidente 32% in più di presenze durante i giorni di passaggi festival non è che pensiamo che sia tutto merito nostro ma sicuramente una parte di questo merito c'è devo anche dire che è stata un'edizione ricca di personaggi noti lei ha nominato prima Piero Pelù ma abbiamo avuto tantissimi altri personaggi pensiamo soltanto ai premi il premio passaggio a Roberto Vecchioni il premio fuori passaggio a Cesare Cremonini il premio giornalistico Andrea Barbato ad Alucco a Metal Tan ecco anche la presenza di personaggi che arrivavano da altre parti d'Europa e non solo pensiamo per esempio non era qui purtroppo ma pensiamo al collegamento online con gli Stati Uniti d'America e Sharon Stone pensiamo all'arrivo in Italia di Tom Cuca che è uno scrittore albanese premio dell'Unione Europea per la letteratura 2021 pensiamo anche agli altri scrittori alle altre scrittrici serbe e albanesi che sono arrivate quindi io credo che sia stata un'edizione interessante per i grandi nomi popolari ma anche per i nomi meno popolari ma sicuramente che risvegliavano curiosità nel pubblico ecco e a proposito di gran finale il Dulcis in fundo sarà proprio qua in piazza 20 settembre dopo le ore 23 certo in piazza arriverà prima Marco Politi poi arriverà Rulla Jebreal e infine dalle 11 a mezzanotte la chiusura con il discorso notturno di infinito e provvisorio del presidente del comitato scientifico Nando Dalla Chiesa quindi una delle figure intellettuali più interessanti e importanti che abbiamo in Italia grazie Belfiori naturalmente ci rivedremo nell'edizione del 2022 perché già lavoreranno Simona te studio grazie Davide a te e al tuo ospite noi auguriamo una buona serata anche ai nostri telespettatori l'appuntamento è per domani mattina alle ore 7 in diretta con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri arrivederci grazie a tutti grazie a tutti